Nell'ambito delle celebrazioni del Centenario della Vittoria, giovedì 8 novembre alle ore 19.30 nella chiesa Ricettizia San Nicola di Bari al Casale Prepezzano di Giffoni Sei Casali, si svolgerà il concerto del Centenario in ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Brani famosi e liriche suggestive coinvolgenti saranno eseguite dal coro lirico-sinfonico di Battipaglia, diretto dal maestro Mario Lamanna. Durante la manifestazione saranno raccolti fondi per le spese di manutenzione della chiesa.